Un vero assalto di migliaia di persone ai sacchetti gialli. Anche in India sbarca Ikea ed è subito boom. Il primo negozio del colosso svedese dell'arredamento low cost ha aperto a Itek City, alla periferia di Ideberab, la capitale del Telangana. I numeri del nuovo Maxi Store sono impressionanti e ne fanno uno dei più grandi tra i 400 negozi Ikea in tutto il mondo. 37.000 metri quadri di superficie dove sono in vendita 7.500 prodotti, mille dei quali con un prezzo meno di 200 rupie, vale a dire 2 euro e mezzo. C'è anche uno spazio per il bar e il ristorante da mille posti e lo spaccio alimentare. Si prevedono visite di 6 milioni di clienti. Noi diciamo che vogliamo contribuire a rendere l'India un paese migliore, ma l'India ha reso migliore l'Ikea perché ci ha obbligati a tenere i prezzi più bassi, mantenendo la stessa qualità dei prodotti e dei servizi, ha dichiarato Juvencio Maetsu, vice amministratore delegato di Ikea. Ma questo è solo l'inizio. Il gigante dei mobili punta entro il 2025 ad aprire altri 24 punti vendita in India. Accanto alle classiche librerie Billy e alle serie Malm, sono stati selezionati dei prodotti per andare incontro al gusto locale. Abbiamo visitato oltre mille case per cercare di capire le esigenze e le preferenze della popolazione, conclude Peter Betzel, CEO di Ikea India, che ha confermato che oltre il 30% dei prodotti in vendita sono fabbricati nel paese. Dopo l'India, l'Ikea punta alla conquista dell'Asia e sono già in programma aperture nelle Filippine e in Vietnam.